Piccola, cos'è Trieste e Sogna? Trieste e Sogna è un cortometraggio di animazione che vi mostrerà alla città di Trieste una luce nuova e misteriosa. L'idea nasce dall'incontro tra la fumettista Paola Aramella e la logista Carmelo Settembrino. Mmm, interessante! Continua! È una fiepa moderna! Parla di Tergestea, una bellissima donna che nel silenzio della notte, quando tutti dormono, emerge dal mare e, spingendo la bitta del molo audace, attiva dei meccanismi magici in tutta la città. È bellissimo! Mi hai incuriosito! Finora, grazie al lavoro volontario di tanti professionisti che hanno amato l'idea, ne abbiamo realizzato solo una piccola parte. Ma adesso, adesso, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti! E dimmi, piccola mia, cosa posso fare per vedere realizzato il sogno? Partecipa al crowdfunding! Durerà fino a giugno, solo così potremo coprire le spese di produzione. Tutti coloro che hanno Trieste e il cinema potranno partecipare al sogno. Anche un piccolo contributo è importante. Aiutaci a finire l'opera. Visita la pagina su KissKissBankBank. Ti aspettiamo sognando!